ciao bentornati sul canale bentornati verissimi amici allora di ritorno sul video verrà pubblicato tra un paio di giorni però di ritorno dalla firma copie con la camera girl glitter allora siamo andati il 19 a milano alla biblioteca vigentina dove abbiamo saputo che c'era il firma copie di glitter allora in realtà due piccole sfumature cioè l'orario 10 e mezza 11 non si capiva quale fosse l'orario preciso e c'era da prenotare ma non l'abbiamo trovato da nessuna parte e quindi qualcuno ne so youtube perciò metà della gente non aveva metà quasi tutti non avevano prenotato ma siccome eravamo arrivati molto presto siamo entrati ma in realtà alla fine sono riusciti a entrare tutti giusto sì però io ho avuto la fortuna di essere lei è stata sarà è stata abbastanza davanti allora in realtà non era solo un firma copie sono andato a tanti firmacopie è durato praticamente due ore la prima ora è stata tutta una specie di spettacolo che la camera girl anche più di due ore la seconda ora ovvero antonietta lupo antonietta lupo mi sfuggiva il nome il cognome ricordato la fine l'alto antonietta lupo ha dedicato ai bambini siccome l'ultimo libro è dedicato e parla di bullismo ha parlato con i ragazzi con i bambini parlando delle proprie esperienze di quelle degli altri e poi ha risposto a delle domande facendo le voci di tutti i personaggi da gennarino a glitter a candy e poi gli altri non mi ricordo candy jimmy non ha detto che non li chiamavano molto è stato il primo firma copie in cui quasi tutti volevano candy jimmy il posto era carino ma tu l'hai visto quale? cioè scusa se l'hai visto ti è piaciuto? sì molto e voi vi chiederete e voi vi chiederete perché ci sono due libri? esatto questo lo sa lo sa lo sa anche antonietta perché gli ho scritto per spiegarle questo è accaduto una cosa questo problema questo l'abbiamo comprato su amazon e cosa è successo ci è arrivato ed era un quaderno quando abbiamo provato a lamentarci o trovare il link il link era stato cancellato non esisteva più quindi prima di errore anche nostro non andare sul sito di glitter e candy e usare il link che era presente lì e diciamo che lo usiamo come quaderno vi abbiamo fatto anche vedere infatti l'abbiamo usato come quaderno e l'abbiamo fatto fare a glitter chiesto gentilmente se poteva fare non c'è più si è autocancellato ecco una dedicata alle amiche di sara giorgia isabella e aspetta che non l'ho letto giorgia isabella a giorgia isabella camera girl grazie e visto che c'eravamo si chiama firma copie perché perché la copia dell'ultimo libro è stata carinissima perché firmava tutti ha firmato anche altri libri che aveva il primo secondo il terzo solo che peccato siamo stati ventesimi perché se con i primi c'ha anche chettirata perché poi si è dovuta sbrigare perché c'erano tipo 120 persone poi c'erano 120 persone circa e siamo stati fortunati anche a essere tra i primi comunque è stata straordinariamente gentile carina simpatica con tutti non vedo esca il video con il mio regalo è vero perché l'abbiamo dato regalo è un tipo una lettera si è tipo una roba con dello scotch con le stelline esterno ma dentro hai fatto dei disegni giusto si si ho fatto due disegni uno di me la camera girl uno di dei personaggi da unicorn squad poi ho fatto la letterina e un biglietto pop up di candy dato che è il mio personaggio preferito e vi dico di più se andate a vedere lo short su youtube di glitter candy c'è anche sarà non diciamo qual è però c'è anche sarà si vede si vede in mezzo a tutti i bambini è stata veramente una bella esperienza un po stancante perché comunque siamo andati lì per le nove cominciava alle 11 poi a mezzogiorno è finito con la specie di spettacolo è cominciato il film a coppia e noi fino all'una più o meno siamo stati lì dalle nove di mattina ci siamo alzati alle sei e mezza poi in macchina poi il parcheggio poi a piedi è stato però ne valsa la pena assolutamente lei altissima non pensavo fosse così altissima devo dire e le voci dal vivo rendono rendono tanto avevo voluto alzare la mano anch'io e chiedere mi fai una voce generalino però qualcuno gliel'ha chiesto e quindi hanno fatto delle domande da scompiscarsi alcune io volevo farlo sentire la voce di candy per fortuna mi vergognavo per fortuna che gli altri e quindi qui abbiamo tutti i libri di candy e di glitter e candy che sono quattro ovvero glitter e candy amiche per sempre glitter e candy un'avventura a parisi glitter e candy nella stagione sani il primo è tipo dedicato a glitter e candy il secondo a melanie il terzo a marine e il quarto ad esi e quindi per tutti gli amanti devo dire di del canale glitter e candy penso che sia valsa la pena e vale la pena andare un firmacopio ovviamente questo è stato a milano forse non l'abbiamo detto che era a milano si l'hai detto a milano nella biblioteca vigentina perché poi ce ne sono stati perché c'era il book city cioè contemporanea tanti eventi legati ai libri e in questo caso era il suo libro che era stato pubblicato da poco e ci sono stati anche sicuramente in altre città se vi capita e non è troppo lontano è veramente una bella esperienza da fare lo dico come genitore per i propri figli amanti di glitter e candy è una bella esperienza ho fatto anche un sacco di foto e video inizialmente da fuori perché non si riusciva ad entrare poi è avanzato spazio siamo riusciti ad entrare anche noi genitori abbiamo fatto qualche foto in più appena è arrivata lì lei tipo una pop star no è arrivata lei tutti con i concerti no si si e poi aveva dentro ha cantato un pochettino di piccolo unicorno e quello è la canzone del cuore assolutamente assolutamente e poi ho fatto anche il video ufficiale prima era solo un ritornello adesso ci ho fatto la canzone ufficiale proprio esatto quindi anche se l'età comincia a essere più alta per sarà glitter e candy rimane nel cuore perché è stata una delle prime youtubers che ha seguito il tour quando la unicorn squadra rapporto vi aspetta un'avventura davvero speciale esatto e quindi su questo non so se c'è altro da dire se avete qualche curiosità da chiederci sull'evento potete scrivere sotto e quello che ci ricordiamo ve lo se youtube non crede che questo video sia per bambini ovvio ah è vero perché ogni tanto youtube sarà fatto così virgolettato ci blocca i contenuti i commenti perché ritiene che dio sia per bambini e quindi ci blocca i commenti voi commentate sotto un altro video dicendo commento il video di vi grittere candy volevo sapere se senza problemi anche i giovani ogni tanto lo fava sotto un altro video a commentare giustamente perché se ci bloccano come fate a contattarsi c'è una pagina facebook che è aggiornata tipo a quattro anni fa però il messenger funziona potete scriverci lì tranquillamente scrivete il messenger messaggio diretto se riesco vi rispondo senza io o sarà senza nessunissimo problemi no ce l'ho io nel senso è come un whatsapp si risponde abbastanza facilmente il canale è un po fermo però ripeto voi scrivete se avete bisogno se volete sapere qualcosa quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale mette un like condividere commentare schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e noi vi sentiamo ci vediamo al prossimo video ciao